Oggi lei ha fatto il suo ingresso ufficiale nella parrocchia del Sacro Cuore di Arezzo. Quali sono le sue considerazioni in relazione a questo nuovo e importante inferno? Ecco, di vivere insieme, di costruire insieme, camminare insieme, per creare questa unità, questa comunione tra tutti noi, per essere una chiesa una, ma anche santa. Lei ha chiesto tre C alla comunità, ce ne può dire quali sono? Tre C, la collaborazione, la comunione e la carità. La carità tra di noi, la comunione tra di noi, la collaborazione tra di noi, per essere uniti. Ecco, nella parrocchia del Sacro Cuore è una parrocchia della città di Arezzo, quindi anche in relazione con le realtà vicine, come cercherete di impostare il lavoro, visto anche le tante realtà che sono all'interno della parrocchia, penso agli scout, le comunità del cammino neoclatico minale, eccetera. Sì, sì, ecco, la chiesa ci è posto per tutti, eccoci. solo, come ho detto, di formare una comunione, no? Siamo come una composizione di fiori, di fiori diversi, ma insieme diventa la chiesa più bella, più ricca.